Tu è sempre romantico e a noi... Essere! O non essere! La festa comincia! Questa sì che è carne! Io ho fame! Baldacciugo! Giungo alla manina, ci siamo riuniti fra amici per un seminario gastronomico. A me pare che l'idea di invitare delle ragazze sia una buona idea. Mangia! Meringhi al cioccolato! Fatto e d'antra. Perché la cottura definitiva si farà dentro una pasta sfoglia. Roglioni alla bordolese. Qualcuno vuole il mio sanguinaccio? Continuare a mangiare così, all'infinito. È un purè medicamentoso. Bisogna mangiare. Se tu non mangi, tu non puoi morire. La composta di mele, l'adoro. Semplicemente tre coglioni! Oh, vanità! Vanità! Ma bisogna mangiarlo! Siete grotteschi, grotteschi e disgustosi. Ce l'ha pieno di merda! Prende questa assenza. Questa sì che è carne! Prende questa assenza. Grazie a tutti.